Lo storico d'arte Filippo D'Averio è morto questa notte all'Istituto dei Tumori di Milano, aveva 70 anni e è stato stroncato da un tumore tenuto sempre nascosto. D'Averio nacque il 17 ottobre 1949 in Francia da padre italiano Napoleone D'Averio e madre assaziana. Era il quarto di sei figli, dopo un'educazione in collegio e gli studi di economia e commercio alla Bocconi di Milano dove si laureò pur superando tutti gli esami, D'Averio aprì nel 75 la galleria Filippo D'Averio in via Montenapoleone a Milano dove si occupò prevalentemente di movimenti d'avanguardia della prima metà del Novecento. Nel 1986 inaugurò a New York la Filippo D'Averio Gallery, rivolta all'arte del XX secolo e nel 1989 inaugurò a Milano in corso Italia 49 una seconda galleria d'arte contemporanea. Un gallerista ed editore all'estito Montemostra è pubblicato una cinquantina di titoli.